Per le interviste impossibili di oggi abbiamo una persona a suo modo speciale, Ernest Easing, quello del modello di Easing. Benvenuto professore. Grazie del benvenuto. Ricordo quando mi hanno detto Ma lei è quello del modello di Easing? Ma era il 47 e il mio modello risale al 24. Ci può raccontare la sua vita? E' stata abbastanza avventurosa. Sono nato nel 1900 a Colonia in una famiglia ebrea. Ho partecipato per qualche mese alla prima guerra mondiale. Ricordo come finì. Ero salito su una scala per appendere un cartello. Quando finì di farlo mi guardai intorno ed ero completamente solo. La guerra era finita e tutti erano andati via. Dopodiché entrai all'università di Gottinga e poi ad Hamburgo e studiai matematica e fisica. Feci il dottorato, sempre ad Hamburgo, sotto la direzione di Willem Lenz, che è il vero ideatore del famoso modello che porta il mio nome. Nel gruppo di Lenz c'era anche Wolfgang Pauli, che però era già assistente e molto più brillante di me. E dopo il dottorato che fece? Non rimase all'università, vero? No, forse perché il risultato della mia tesi era essenzialmente negativo e non riuscii a tirarci fuori neppure un lavoro decente. Veramente ironico, pensando che oggi appaiono circa 800 articoli all'anno sul mio modello. Comunque io andai a lavorare fuori all'Aegge, ora General Electric, a Berlino. Però preferivo insegnare e così, nel 1930, presi l'abilitazione e passai all'insegnamento nelle scuole medie e superiori. Inoltre, avevo conosciuto la mia futura moglie, Ioanna, che aveva un dottorato in economia ed insegnava all'università. Però poi, nel 1933, tutti gli insegnanti ebrei furono licenziati, ma riuscì a sopravvivere insegnando a bambini ebrei, che pure erano stati espulsi dalle scuole pubbliche. Un periodo difficile. Un vero incubo, durato 12 anni. Per fortuna mia moglie era ariana, cosa che probabilmente mi salvò quando nel 1939 fui arrestato dalla Gestapo. Mi lasciarono solo quando promisi che avrei abbandonato la Germania, ma del resto avevano distrutto anche la scuola in cui insegnavo. Riuscimmo ad andare in Lussemburgo con una compagnia di musicisti. Volevamo in realtà emigrare negli Stati Uniti, ma le quote erano esaurite. Per il mio quarantesimo compleanno ricevetti in regalo l'invasione tedesca, ma riuscimmo a sopravvivere facendo lavori sempre più umili. Feci il pastore e lo stradino. Non capisco perché molti ebrei di coppie miste furono internati, ma lei no. Forse perché la discendenza ebrea avviene per via materna, così mio figlio era considerato ariano. Per fortuna la nostra zona non fu mai teatro di guerra, anche se fumo costretti a lavorare per l'esercito. Comunque solo 36 ebrei sopravvissero in tutto il Lussemburgo. E poi? Nel 47 finalmente arrivammo a New York, dove ho insegnato in un college. Devo dire che gli studenti erano parecchio diversi da quelli che avevo in Germania. L'anno dopo mia moglie ed io fumo assunti dalla Bradley University a Peoria, nell'Illinois, dove lavorammo fino alla pensione. Adesso però ci deve parlare del suo modello. Volentieri. All'inizio del Novecento il magnetismo era un fenomeno misterioso. In natura ci sono tre tipi di materiali per quanto riguarda le loro proprietà magnetiche. I diamagneti, i paramagneti e i ferromagneti. I diamagneti sono quei materiali che vengono respinti praticamente da una calamita. In realtà tutti i materiali sono diamagnetici, ma di solito questo effetto è molto debole e mascherato dagli altri. L'origine del diamagnetismo è quanto meccanica, ma si può spiegare anche in maniera classica, anche se la spiegazione è sbagliata, pensando a un elettrone che gira intorno al nucleo come una spira percorsa da corrente. Quando si cerca di aumentare il campo magnetico che passa in una spira, in questa si genera una corrente che si oppone a questa variazione. E questo è un effetto simile al diamagnetismo. E il paramagnetismo? Questo è più semplice. Avviene nei materiali che hanno un elettrone spaiato. Dato che l'elettrone ha un suo momento magnetico e anche la sua orbita si comporta come un magnetino, in totale l'atomo si comporta come una piccola calamita. Ora, se si mette una calamita in un campo magnetico, questa si allinea e viene attratta da un'altra calamita, proprio come fanno i paramagneti. E anche le calamite, vere, no? Sì, ma non si può pensare che le calamite siano formate da tanti paramagneti. Perché? Perché se una costa dei paramagneti, ovvero se una costa delle calamitine, quello che succede è che si dispongono in maniera da abbassare l'energia, ovvero nord con sud e sud con nord, mentre in una calamita grossa i magnetini che stanno accanto sono disposti paralleli, nord con nord e sud con sud, in modo da rafforzare il campo. Ovvero, se io prendo una calamita, la polverizzo e poi la metto insieme, la polvere si assembla, ma non è più una calamita perché scompare completamente il campo magnetico. E quindi i piccoli calamitini si comportano come paramagneti, ma paramagneti insieme non si comportano come una calamita. Quindi quello che alligna i magnetini elementari in una calamita non è il campo magnetico? No! L'aveva già dimostrato Bohr che non poteva essere un effetto puramente magnetico. Quello che succede, ma fu scoperto molto dopo da Heisenberg con il principio di esclusione di Pauli, è che in certi atomi, come quello del ferro, gli elettroni di atomi vicini preferiscono allineare lo spin perché così gli elettroni sono più lontani in media o dall'altro e quindi, dato che il principio di Pauli vieta che stiano vicini con lo stesso spin, riescono a stare in media più lontani e questo abbassa la repulsione elettrica. Quindi, alla fin fine, il magnetismo è una specie di effetto elettrico dovuto alla repulsione di Pauli. E quindi qual era il problema che le interessava? Allora, Pierre Curie aveva mostrato che se si scalda un ferro magnete ad una certa temperatura questo perde la magnetizzazione e diventa un paramagnete. È quella che si chiama una transizione di fase. E Weiss aveva mostrato che in un ferro magnete esistono delle ampie zone, dette domini magnetici, in cui gli atomi saranno tutti allineati. Ma non era chiaro qual era il meccanismo più semplice per avere questo allineamento? Lenz si era domandato se, supponendo che esistesse una interazione che tende ad allineare gli atomi vicini, questa fosse sufficiente a generare un allineamento generale. E perché non dovrebbe bastare? Perché la temperatura tende a distruggere l'ordine. Sapevamo che in un modello in cui ogni atomo sente l'interazione con tutti gli altri, c'è la transizione ferromagnetica. E quindi in questo modello ogni elettrone interagisce con gli altri indipendentemente dalla loro distanza. Però in un modello normale un elettrone interagisce solo con i suoi primi vicini. Ci domandavamo se questa interazione a corta distanza era sufficiente. Ho capito. E lei cosa fece? Ah, il mio compito in principio era semplice. Bastava contare tutte le possibili configurazioni e sommare la loro energia. Il problema è che questo va fatto nel limite di un reticolo infinito e quindi anche il numero dei termini da sommare diventa infinito. Bisogna prendere delle scorciatoie. Ora, la scorciatoie più semplice è quando gli atomi sono indipendenti uno dall'altro, ma non si trova niente. Io studia il caso in cui gli atomi sono allineati in catene in una sola dimensione. Mentre, per esempio, il caso di atomi disposti su un piano fu risolto solo nel 1944 da un Sager e quello di atomi disposti in un cubo è ancora risolto. Chiaramente non avevamo nemmeno i computer per fare le simulazioni. E cosa trovò? Che in una dimensione, cioè con gli atomi tutti allineati come in una collana, non si vedeva nessuna transizione. In effetti poi si scoprì che c'è un teorema generale che lo dice. Quindi, conclusi, il modello non permetteva di spiegare le transizioni di fase neppure in due o più dimensioni. E non è così, come ha detto. Eh no. Nel 1936 fu provato che in due dimensioni il modello avrebbe funzionato e da lì in poi il modello diventò sempre più famoso. Ma come mai? Così tanta gente si interessava al ferromagnetismo? Il fatto è che vicino a una transizione di fase prevalgono gli effetti a lunga distanza e i dettagli del modello diventano irrilevanti. Così che il mio modello si può applicare a un'infinità di casi, sia in fisica, sia in altre discipline. Per esempio, pensi a un modello di formazione di una maggioranza in una consultazione pubblica. Ogni persona tenta di convincere i vicini, ovvero di farli allineare con la propria opinione. Se ci sono solo due opzioni, abbiamo il mio modello, in prima approssimazione. E' vero. E quindi si apprezzò l'importanza del modello semplificato? Certo. Wannier nel 1966 scrisse Il risultato più importante della meccanica statistica è il modello di Ising. E Kadanoff nel 2013 disse che con il mio lavoro c'è stato un cambiamento epocale nella fisica. Per la prima volta si potrebbe descrivere il comportamento collettivo di un materiale. Peccato che lei non abbia potuto sfruttare la notorietà. In realtà, a me dispiace soprattutto per Lenz. Non solo non riuscì a confermare l'importanza della sua intuizione, ma il modello da lui inventato ha poi preso il mio nome. E del suo nome non si ricorda nessuno, o quasi. Ma non c'è la legge di Lenz? Quella che dice che la forza elettromotrice indotta in una spira è tale da opporsi alla causa che l'ha generata? L'abbiamo sfruttata per spiegare il diametromagnetismo. Ah, ma quello è Heinrich Lenz, fisico russo dell'inizio dell'Ottocento. Il mio tutor era William Lenz, nato nel 1888, che è stata assistente di Sommerfeld, un'altra persona. Lei è stata veramente una brava persona. E mi dicono anche un ottimo insegnante. Siamo molto felici di averla avuta qui a Radio Moca. Arrivederci. Arrivederci anche a voi e ai vostri ascoltatori.